Due golle realizzati dall'ex Dos Santos permettono alla Vastese di avvicinarsi alla zona playoff, mentre l'Avezzano naviga sempre di più nei bassi fondi della classifica. All'Aragona finisce 2-0 per i padroni di casa, entrambe le reti arrivate dagli sviluppi di un corner. Derby giocato per l'appunto con obiettivi diversi, in una gara tra l'altro vietata ai tifosi bianco-verdi. Silva conferma il consueto 3-5-2, atteggiamento pareggiato da un Avezzano che vede in avanti Ciolacu e Rabeni. Sono proprio i bianco-verdi a cominciare bene il match con Jacopo Puglielli che di prima intenzione di destro chiama Di Rienzo ad alzare in calcio d'angolo. La Vastese inizia a macinare gioco e dal 14esimo passa in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pizzutelli, Dos Santos tocca e firma il vantaggio dei padroni di casa. L'Avezzano accuse il colpo, ma al 23esimo lamenta un tocco di mano in area di Marianelli, su cui però il direttore di gara invita a proseguire. E' ancora Vastese al 34esimo quando Pizzutelli calcia di poco alto un calcio di punizione. Tre minuti dopo Francesco Esposito prova da posizione defilata a beffare Patania con un pallonetto che però non trova la porta. I tempi sono maturi per il raddoppio della Vastese, ancora da calcio da fermo. Pizzutelli va a battere questa volta sull'altro versante. Con un tocco ancora una volta non pulito e probabilmente anche con la complicità dei brunetti, Dos Santos firma il raddoppio della Vastese. L'Avezzano accorcerebbe in teoria le distanze prima di tornare negli spogliatoi. Al 45esimo infatti dagli sviluppi di una punizione, Di Gian Felice mette di testa alle spalle di Di Rienzo, ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco del difensore. Nella ripresa subito doppio cambio per l'Avezzano, con Siragusa e Di Rienzo che prendono il posto di Jacopo e Romano Puglielli. E' però ancora la Vastese a rendersi pericolosa, con Palumbo che va al tiro quasi dal limite dell'aria, trovando una doppia deviazione di un avversario e di Patania a disinnescare il pericolo. L'Avezzano prova di carattere a far qualcosa, avendo però nel corso della ripresa solo un paio di chance. La prima è quella che capita al 23esimo, quando Masini è entrato al posto di Ciolacu, mette in mezzo per Rabbeni, fermato in qualche modo dalla difesa biancorossa, prima di toccare in maniera pulita il pallone. Un minuto più tardi Chance Vastese, con azione iniziata con Vittorio Esposito, proseguita poi con Palumbo, è terminata infine con Ciccio Esposito, che trova Magri a murargli il tiro. Al 26esimo Pizzutelli ci prova dopo uno scambio d'angolo, ma il numero 10 di casa non inquadra la porta. L'Avezzano ha difficoltà a tornare in avanti, mentre la squadra di Silva vede all'onzi al 41esimo indirezzare addosso a Patania una ghiotta Chance Belletris dopo la scivolata di Cimino. Nel corso del primo minuto di recupero, infine, i biancoverdi hanno l'opportunità di riaprire la gara, ma Rabbeni non è abbastanza freddo, a due passi dalla porta, e spara addosso a Di Rienzo l'ultima Chance. Dopo un derby, un doppio derby, attende adesso domenica prossima entrambe le compagini. L'Avastese è in casa di un notaresco in difficoltà, mentre l'Avezzano si giocherà punti salvezza contro il Pineto. La sconfitta col Vasso Girardi aveva lasciato un po' di amaro in bocca, adesso è arrivata questa vittoria che vi consente di avvicinarvi alla zona playoff. Sì, ero molto arrabbiato domenica perché troppe occasioni mancate, soprattutto fuori casa, troppe occasioni mancate, quindi gli ho chiesto oggi un po' di rabbia in più, ma rabbia nel senso di cercare il gol con più cattiveria. E poi invece la partita non facile, che loro avevano una grande fisicità, però abbiamo interpretato molto bene, devo dire. L'Avezzano meglio nella ripresa paradossalmente, però voi in ripartenza siete stati più pericolosi. Sì, meglio, però hanno fatto poco fortunatamente, quindi siamo stati bravi noi. Noi con le ripartenze c'erano un po' più di spazi e abbiamo cercato di sfruttarli. Primo tempo erano molto chiusi, però alcune volte ci vuole appunto la determinazione e il pizzico di fortuna per fare gol. E quella gancia alla zona playoff è un obiettivo possibile? Mi hanno detto che siamo molto vicini, quindi siamo lì a lottare e lotteremo sicuramente. Mister, ci avete provato soprattutto nel secondo tempo, però è arrivata una sconfitta, rimane una difficile situazione di classifica. Analisi perfetta. Purtroppo quello che mi rammarica di più non è tanto il risultato, ma è come è maturato. Due palle inattive sono una cosa su cui noi ci lavoriamo tanto, sono due disattenzioni che una squadra come noi, nella nostra posizione di classifica, non se lo può permettere. Però, come ho detto, anche dopo la partita con la Reganatesi dove abbiamo una buona prestazione, dobbiamo prendere questa partita, metterla da parte e cominciare a preparare subito Pineto. Perché il tempo è poco, i punti cominciano a essere sempre più pochi, non abbiamo nel tempo di esaltarci ma neanche il tempo di buttarci giù. Sappiamo che ogni domenica è una guerra, sportivamente parlando, sappiamo che ogni domenica dobbiamo andare a cercare punti su tutti i campi. Questo è fuori discussione. Mentalmente quanto è difficile allenare una squadra verso l'obiettivo di crederci ancora alla salvezza? Non è difficile, perché io ci credo e il gruppo ci crede. Se stiamo qui tutte le settimane a lavorare, l'unico problema è che purtroppo non riusciamo a riprodurre il lavoro settimanale e la domenica. Quella è una cosa che ancora non ci riusciamo a spiegare. Abbiamo provato in tanti modi ad analizzare la situazione. La cosa che mi preme di più è tenere in vita la squadra. Tutti i giorni, tutte le settimane, nelle migliori difficoltà che abbiamo. La cosa brutta è che abbiamo, tra virgolette brutta, dico brutta perché è un paradosso. Abbiamo una società che non ci fa mancare nulla, una società che regolare in tutte le sue cose. Quindi ci sentiamo anche noi, non solo in debito verso di noi, ma verso anche chi ci fa star bene. Lei crede nella salvezza diretta? Assolutamente sì. Quando non credo in qualche cosa mi faccio da parte. Se sono qui è perché ci credo, se ci metto la faccia è perché ci credo assolutamente.